L'artista esistenzioso, buongiorno a tutti, oggi una storia che dovreste ascoltare un po' tutti per quanto è toccante, per quanto fa riflettere e quant'altro il titolo del video è i miei migliori auguri di vero cuore Tommaso e Mariolino, vostro fortunato è una storia di un bel po' di anni fa, io poi generalmente un po' non dimentico, accantono date situazioni, date sensazioni, dati stati danni, dopo un po' di tempo mi vengono in mente soprattutto sono abbastanza toccanti, diciamo, e fanno riflettere non poco questo bambino, questi bambini, Tommaso, Tommy, dieci anni, Mariolino otto oggi di lì, otto anni fa, avevo quarantadue anni passeggiavo zona Crescent, molto molto prima c'erano, sai, i venditori di vari giocattoli e quant'altro, soprattutto palloncini c'era questa famigliola c'erano generalmente non tante persone, perché quando è aperto il Crescent ci sono state tante tante persone che gironsolavano in quel periodo, se non sbaglio, c'erano un po' di meno ma a parte questa, l'inigrazione su questa panchina guardavo il mare, insomma, era immerso nella paesaggistica tante riflessioni e quant'altro quando poi sai, c'hai un po' di pensieri tendi ad allontanarti dalla realtà circostante cerchi di risposte e quant'altro sono un bambino abbastanza frizzante, vivace e quant'altro quelli che di noi poco ascoltano e che danno tanta confidenza Tommy Tommaso, saltellava qua e là e si è avvicinato a questa panchina una chiacchiera, l'altra, che fai, che non fai, eccetera, eccetera guardi il mare, insomma, tutta una serie di cose e da varie chiacchiere si è arrivato un po' si parlava di sogno, non sogno, via discorrendo e un pochettino abbiamo fatto il parametro sul palloncino e lui mi diceva, un amico mi ha detto che più è lunga la corda e il palloncino più si avverano i sogni mio fratello è stato sfortunato abbiamo comprato il suo palloncino si era rotto, bla 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 e quindi avevano aggiustato la cordicella si era accorciato, c'erano dei nodi, ok io gli avevo detto non è detto sia così a parte che c'è un nodo e da quel nodo sicuramente il nostro signore può ricordarsi di te, di tuo fratello e quant'altro poi, ripeto, non è detto perché la corda è molto molto corta e quindi sicuramente sarà molto probabile che il nostro signore si avvicini di più a tuo fratello e si possa avere il suo sogno lui era molto preoccupato del fratello perché il fratello si vedeva molto molto in disparte probabilmente non stava bene aveva delle problematiche che ripeto, abbastanza distaccato dal mondo circostante a quant'altro le problematiche non le conosco quindi è stato molto molto toccante perché vedete questo bambino che pensieri aveva a 10 anni e oggi i bambini di oggi hanno molto molto avanti però era come toccare una sensibilità superiore molto molto preoccupato per il bambino e ci è uscita un po' sta cosa ripeto sulla cordicella più lunga e più corta mi faceva un pochettino oggi sorridere rispetto a quello che ho provato un bel po' di anni fa e fu abbastanza toccante da brividi e quindi ripeto mi sovveniva oggigiorno con tanto di riflessione rispetto anche alle realtà attuali artisti esistenziali se buono già a tutti